Musica Buonasera e benvenuti amici della Lega Calcio 8 siamo qui allo Sport City per assistere alla decima giornata della Serie A della Lega Calcio 8 ad affrontarsi il Blisseur contro i Pumas anche lui uomo cardine della formazione dei Pumas formazione che l'anno scorso ha vinto il girone del Centocella intanto qui ci prova con il destro il numero 10 del Blisseur Guarrasi diretto avversario poi di scarico verso Aquino finta di andare con il destro poi si sposta il pallone sul mancino ora Maramau prova da fermo incredibile che bel tiro da parte di Marco Maramau ci prova il numero 5 poi l'appoggio verso Ballanti Gira di prima verso Maramau ancora Aquino bello il piatto a servire Maramau che prova con il mancino il pallone rimane lì e il 2 a 0 del Blisseur porta la firma di Marco Maramau primo gol in maglia verde per lui il Blisseur prima Guarrasi poi Maramau doppio vantaggio ma ora Nonni ci va con l'esterno destro corner il numero 10 dei Pumas ballone all'indietro verso Nika punta Gavino va col destro secco Nika 2 a 1 riapre il match il numero 5 il regista dei Pumas Nika 2 a 1 qui allo Sport City verso Marco Maramau ora punta il diretto avversario Maramau lo scarica arriva in questo momento per Gavoli ancora Maramau piatto destro a giro di prima attenzione con un tunnel ai danni di Maramau Maramau però ora gli soffia il pallone con opportunità di 2 contro 1 per il Blisseur va Maramau egoisticamente va con il tiro a giro in maniera migliore del numero 9 del Blisseur opportunità sprecata ma ora ancora il Blisseur in avanti Guarnasi De Santis la palla rimane lì Fusca allontana si muove dentro Eboli Fusca però preferisce tornare da Nika arriva lui alla gittata lunga pallone che però rimane lì prova Eboli e si supera Francioso Blisseur che riparte con Maramau fermato da Nika non fallosamente secondo il direttore di gara ancora Maramau torna sul metronomo del Pumas palla però che filtra pallone indietro ancora verso Nika converge il numero 6 viene steso da Gavioli va Coco alla battuta il pallone filtra poi ci prova Nonni Galvanin mette dietro verso il numero 6 e c'è il pareggio dei Pumas ci ha pensato vita colonna 2 a 2 qui allo Sport City ancora tutto in equilibrio risultato il numero 9 lo scarico verso il numero 10 Coco fermato può ripartire il Brisseur con Maramau si sposta il pallone sul mancino va al diagonale pisce tutto rimedia una rimessa laterale che Aquino batte velocemente all'indirizzo di Maramau fa rimbarzare il pallone va Maramau un gol pazzesco Marco Maramau 3 a 2 qui allo Sport City si aspetta solo il fischio finale da parte del direttore di gara che arriva in questo momento il Brisseur batte allo scadere 3 a 2 il Pumas innanzitutto io vorrei ringraziare la famiglia Testa perché si sono dimostrati subito disponibili per il bene del ragazzo che comunque voleva giocare loro gli potevano concedere una totta di autonomia avendo grandi giocatori hanno provato a trattenerlo si sono parlati hanno deciso per il bene del ragazzo noi lo vogliamo ringraziare perché sono stati disponibili corretti repentini io credo che dovrebbe essere questo lo spirito di questa competizione perché è comunque una competizione amatoriale Marco lo sappiamo che giocatore è siamo felicissimi di averlo portato da noi cercheremo di farlo rimanere fino a fine anno questo è sicuro grazie 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 grazie